Mononite Magazine oggi è con il regista e sceneggiatore Emanuele Palamara. Benvenuto Emanuele. Grazie. Oggi raccontiamo com'è la tua esperienza di adesione e ingiuria al festival Telegri Nando Film Festival. Intanto diciamo qualcosa sui nostri comuni passioni, quelle legate al cinema. Ci siamo incontrati diversi anni fa quando hai partecipato al movie club sul festival. Nel frattempo però la tua carriera in qualche modo è anche esplosa perché oltre ai cortometraggi, a un film hai anche fatto da abbraccio destro per Matteo Garrone. Quindi la tua carriera sta decollando. Rispetto al tema del festival, il viaggio, quali opere secondo te intercettano un po' di più questo argomento. Sì, intanto grazie, mi fa piacere far parte del festival ed essere per quest'altra parte, no? Perché comunque quando da autore però sei poi in giuria è importante capire anche come ragiona la giuria, ma è anche un momento per conoscere nuovi lavori, no? Che sono sempre alla base poi di quello che facciamo noi, scoprire cosa c'è in giro, scoprire altre visioni. Per quanto riguarda il mio percorso, sì, ricordo che al movie club ci sono stato con La Smorfia, che poi è un corto che in qualche modo si lega alla tematica del Pellegrinaldo Film Festival. Dopodiché c'è stato tutto un percorso che ho fatto da assistente alla regia in cui appunto ho lavorato con Matteo Catone, con Stefano Solli, ma con tanti altri registi. Loro sono stati per me dei maestri e come dire, è stata la mia gavetta per arrivare poi a fare quello che faccio oggi e quando ragiono sulle mie idee, sulle mie regie, insomma prendo molto da quello che è stato il mio passato da assistente alla regia. Per quanto riguarda il tema del festival, che comunque in qualche modo il viaggio, forse tra i miei lavori questi due sono quelli che si avvicinano un po' più alla tematica, che sono La Smorfia e Uomo in mare, due cortometraggi. La Smorfia, con Gian Felice Imparato, racconta la storia di un cantante napoletano che a causa di un ictus decise di non cantare più e lui sogna di tornare in questo teatro dove è stato consacrato come il grande erede della canzone napoletana. Però a chiuderlo in casa è sua sorella che cerca di proteggerlo, addirittura respinge le visite dei fans, le chiamate dei giornalisti e quindi lui scogge da un piano diabolico per farla fuori e tornare in questo teatro. E quindi è un viaggio verso quella che era la sua gloria, ma poi un viaggio che si scontra col presente, un presente che dice che quel teatro non esiste più, al posto di quel teatro c'è un grande casino e quindi capisce anche che fondamentalmente la protezione della sorella era una forma di amore. Qualcuno può vedere anche come una forma di odio, insomma perché è un togliere una libertà. Questo lo lascio allo spettatore. Però ecco da questo punto di vista ci può essere il viaggio, il viaggio di quest'ista. Anche Uomo in mare è un viaggio. Anche Uomo in mare è un viaggio dell'anima, un viaggio interiore. È la storia di un testimone di giustizia interpretato da Marco D'Amore, nel corso ci sono anche Fabio Balsamo e Lavinia Guglielman. Ed è appunto la storia di questo testimone di giustizia, della sua condizione, di come si spacca il nucleo familiare di un testimone di giustizia in seguito proprio a questa condizione. È tutto parte dalla richiesta del bambino, del figlio di Marco, Marco è anche il nome del protagonista, che chiede a suo padre di regalargli un elicotterino giocattolo per salvare questo mino che sta negando il mare, un mare che lui realizza con questo asciugamano blu. E quindi da qui parte appunto questo viaggio che io definisco dell'anima di Marco, che ripercore tutti i momenti drammatici e i momenti importanti della sua condizione di testimone di giustizia, con l'obiettivo di arrivare a questo elicotterino che potrebbe acquistare in qualche modo in un negozio giocattolo, oppure arrivare a questo elicotterino in un altro modo, così come poi farà. Due storie particolari che parlano comunque di viaggio interiore, anche delle conseguenze di scelte giuste, in qualche modo, no? Entrambi. Invece, a proposito delle conseguenze di scelte giuste, noi abbiamo vissuto un periodo di lockdown e stiamo vivendo un periodo di grande pressione, di attenzioni ovviamente doverose. Tu poi che vivi in una regione amministrata con particolare rigore, più di altri. Com'è stato il lockdown tuo? Che cosa è? La tua creatività in qualche modo ha successo? O sei riuscito a trovare una modalità diversa per fare il tuo lavoro anche da remoto, diciamo? No, io ammetto che ho lavorato tanto, cioè ovviamente come scrittura. No, noi sai, no? Comunque alterniamo periodi di incontri o di set a periodi in cui ci chiudiamo e scriviamo. Questo periodo di chiusura per scrivere ovviamente si è, diciamo, in qualche modo combaciato con il lockdown. Anche perché io sono uno che si distrae molto, cerca sempre comunque di uscire mentre scrive, cercare la distrazione e lì non potevo uscire, quindi mi sono concentrato al 100%. E quindi è stato, devo dire la verità, è stato utile da questo punto di vista. Come l'ho vissuta, ovviamente, come tutti, cioè, ti mancano gli affetti, ti manca quella libertà e ora, ovviamente, la paura di un nuovo lockdown o comunque iniziano ad esserci parecchie restrizioni, la paura c'è. Quindi, diciamo, è una situazione molto complicata e molto particolare. Per la tua esperienza di regista, quanto è importante vivere insieme, oltre a questa parte della struttura che in qualche modo è isolata, no? È un'isola silenziosa, tua, personale. Ma quanto è importante, invece, condividere il set, il film, con tutto quanto il cast tecnico e artistico? È fondamentale. Guarda, io spesso sento, insomma, interviste di registi, anche importanti, anche grossi, che dicono, io odio il set. È una cosa che io, sinceramente, non tollero, perché se vuoi fare regista, vivi lì. E ho l'esempio di quello che è stato il mio più grande maestro, che è Matteo Carrone. Matteo, sul set, è come un pittore che quando dipinge si sporca con i colori. I colori sono le persone creativi attorno a lui. Lui manda tutti nella direzione che vuole lui, ma mette tutti in condizione di creare. Dalla comparsa al direttore della fotografia. Ecco, questo approccio che io ho incontrato quando avevo 24 anni, quindi parliamo di dieci anni fa, sul film e la reality, è un approccio che io mi sono portato dietro. È una cosa che io... ma ci viene anche naturale, perché io amo il set. Cioè, sul set, ovunque stosia, io mi sento a casa. Quindi è una condizione che adoro, che mi piace. Non mi pesa, non mi pesano le tante ore di lavoro sul set. Non mi pesano le condizioni un po' più complicate, quando ci sono dei set un po' più particolari. Quindi è una condizione che adoro e che mi piace. E che mi manca poi quando non giri per tanto tempo. E a proposito di condizioni eventualmente privilegiate, secondo te, proprio un parere personale, l'idea di un festival, come quello del Pelligrinando Film Festival, può essere anche un vettore, una vetrina importante per trovare delle location, come sono quelle, per esempio, di Monti Prentissi e Castelli Romani, che un domani possono essere, diventare protagoniste di film? Assolutamente, assolutamente. Cioè, Location Scouting è appunto alla base del cinema, perché poi cerchi dei luoghi partendo da una sceneggiatura, ma spesso capita pure che dei luoghi ti riescono ad ispirare per delle storie che magari scrivi successivamente. E poi soprattutto è importante conoscere dei posti, insomma, meno conosciuti per il cinema. Quindi assolutamente può essere fondamentale, può essere bello, piacevole, e capire anche appunto quei territori che stiamo andando a toccare, anche quello è fondamentale. Cioè, non solo dal punto di vista estetico, ma anche proprio del territorio, della storia, anche quello è importante conoscere. Quello che il territorio riesce a trasmettere, quindi. Assolutamente, sì. Allora, io ti lascio la parola per raccontare come parteciperà, insomma, al festival, e anche magari invitare chi volesse collegarsi. Adesso chiaramente organizzeremo, vedremo in che modo, dal 12 al 15 novembre, il pellegrinando sul festival, probabilmente ci sarà una piattaforma per consigliere a tutto il pubblico di partecipare anche da remoto. Però, insomma, ti lascio la parola anche perché magari, chissà, potrebbero ispirarti in questi territori per diventare il protagonista del tuo prossimo lavoro. Beh, io sono curioso. Spero di... insomma, vediamo. Vedremo appunto questi posti che immagino che saranno spettacolari. Il pellegrinando film festival, quindi, è dal 12 al 15 novembre, a Palestrina. E, ecco, come dicevi, potrà essere eseguito online su una piattaforma che poi, ovviamente, comunicherete. E niente, quale sarà il mio approccio? Il mio approccio da autore, giovane autore, che sta in giuria. E cioè, ovviamente, per me la prima cosa è l'emozione, quindi dei lavori che... premerò i lavori che mi emozioneranno, come primo punto nella mia lista. E dopodiché, ovviamente, guarderò anche l'aspetto e la confezione di questi lavori, perché se comunque un regista, anche giovane, riesce a mettere su una confezione importante, è comunque una qualità importante. E, infine, ovviamente, quello che secondo me tutti i produttori dovrebbero cercare in un corto è la potenzialità autoriale di chi racconta. Ecco, questi sono i tre punti che porterò in giuria e spero di essere poi d'accordo con gli altri giurati. Allora, in giuria ci saranno, possiamo svelare alcuni dei nomi. Sicuramente il maestro Sergio Stivaletti, uno dei nomi più importanti a livello di effetti speciali. Che mi ha premiato al Movie Club. Io ho una sua scultura e lui ha premiato la smorfia. Quindi diciamo che già con il maestro Stivaletti ci dovrebbe essere un minimo di intesa, no? Perché poi quando uno sta in giuria insieme, la cosa particolare dei festival è che lasciando la libertà alla giuria tecnica, poi bisogna vedere che cosa succede confrontandosi, no? Eccerto. Sulle scelte. E l'altro, invece, partecipante che farà parte della giuria tecnica è il regista Lorenzo Vignolo. Quindi già iniziamo a svelare un po' il nostro cap della giuria. Appuntamento allora con il regista e sceneggiatore Emanuele Palamara a Palestrina dal 12 al 15 novembre per il Peligrando Film Festival. Grazie di essere stato con noi, Emanuele. Grazie a te, grazie. Ci vediamo il 12 a Palestrina. Grazie Emanuele, a presto. A presto. Grazie a te, grazie a te.